La sorte e l'immediato futuro dell'impianto sportivo Lenaia di Di Pescara sono al centro dell'incontro convocato oggi dalla Regione Abruzzo con l'assessore regionale Guido Quintino Liris. Le ipotesi al vaglio sono tre, la riapertura immediata da parte del Lati, attuale gestore del palapallanuoto, come da impegno assunto il 2 febbraio, la restituzione delle chiavi del centro sportivo da parte del gestore se non si riuscisse a garantire la riapertura e infine, nel caso di uno stallo delle trattative, l'avvio d'ufficio ad una procedura di rilascio della struttura per inadempienza del gestore da parte della Regione proprietaria del complesso che poi dovrà individuare tempestivamente una gestione ponte per la riapertura immediata almeno di una vasca. La gestione dell'impianto sportivo, un tempo fiore all'occhiello di Pescara, fa capo a Unati, associazione temporanea di impresa composta da quattro associazioni di cui è capofila la Pinguino SRL rappresentata da Nazareno Di Matteo. Tra varie vicissitudini, in attesa del project financing, che dovrebbe chiudere il cerchio di una vicenda che si trascina ormai da anni, complice anche la pandemia, il centro sportivo è praticamente chiuso da ottobre del 2020. Una condizione che sta creando problemi a dipendenti, collaboratori sportivi e centinaia di famiglie, impedendo di fatto l'allenamento di atleti impegnati anche in gare nazionali di interesse coni e che, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali del periodo covid, potrebbero comunque continuare la loro preparazione. Come spiega anche Riccardo Fustinoni, vicepresidente dell'SSD INAIA di 2020. La scelta è stata una scelta unilaterale del direttore generale Nazareno Di Matteo, che senza coinvolgere comunque i soci dell'ATI o della NAIA di 2020, ha deciso di interrompere l'attività nel momento in cui è uscito ad ottobre il DPCM. Altre piscine hanno subito mantenuto l'attività, almeno agli atleti agonistici, però anche dopo tutti gli sforzi messi in campo per riaprire in data 8 febbraio, purtroppo non è stato possibile perché ci sono delle morosità importanti che sono state evidenziate proprio nel pomeriggio del 5 febbraio, quindi di fatto la piscina non si può riaprire perché manca luce e gas. Contattato telefonicamente, Nazareno Di Matteo, direttore generale della SSD INAIA di 2020, ha spiegato che la decisione di chiudere l'impianto ottobre è stata presa perché, numeri alla mano, l'apertura del centro natatorio agli atleti agonisti non avrebbe consentito di coprire le spese di gestione dell'impianto. L'incontro di oggi con l'assessore Illiris servirà anche a capire quali saranno i prossimi passi. Io spero che sia un incontro definitivo per risolvere la problematica, il nostro obiettivo chiaramente è la pronta riapertura dell'impianto.